Buongiorno, direttore. Cos'è gli uffizi? Cos'è? Cos'è? Un'esposizione di cose antiche. Che poi non è solo la cultura degli italiani, ma è la cultura del mondo occidentale. Il Rinascimento è figlio della nostra cultura e noi siamo figli del Rinascimento. Quanta tenerezza mi fa il centauro. Mi ci vedo molto vicino. È importante che tutti i stessi in mano. Quanto ti vuoi, tu volevi la vita. La metàphera è che non si spiega sui un pietro, ma 30 o 40. Non possiamo fare la scena. Non possiamo fare la scena. Mi sono molto aware che siamo in uno dei più importanti musei del mondo. Poca cosa, noi ci prendiamo affanno del nostro contemporaneo, ma dovremmo imparare. Le opere d'arte sono sagge, come i filosofi.